Il Comune è stato controllato tutte le candelore, hanno fatto alcuni lavori anche a Triceri. Quest'anno come sicurezza va benissimo, 100%, nessun problema anche per la popolazione catanese, possiamo stare tranquilli. Rispetto, diciamo, forse agli altri anni. Sì, rispetto agli altri anni, quest'anno siamo alla sicurezza massima. Perché i lavori, insomma, sono sempre importanti da fare in fatto di restaurazione. Certo, è normale che tutti gli anni bisogna fare un piccolo lavoretto nelle candelore, perché si è ancora più sicuri. Ma cos'è che si può nel particolare, diciamo, saturare? Allora, insomma, sono fatti di legno le candelore. Piovendo, insomma, si possono benissimo avere problemi.